ciao ragazzi sono materoc god e ben ritrovati nel mio canale vi chiedo scusa per l'illuminazione un pochino strana ma perché luci che ho sul soffitto al momento sono due anziché tre quindi la luce sarà un pochino diversa però l'importante è che sia illuminato così mi vedete allora sono qui oggi per darvi una grande notizia ve l'avevo promesso perché ho scritto tanto di post a riguardo il 24 marzo quindi un paio di giorni fa sono risultati idoneo all'esame di pratica della patente ovviamente la patente fisica ce l'ho nel portafoglio non ve la sto a tirare fuori adesso tanto sapete come è fatta una patente però sono ufficialmente patentato anzi neo patentato neo lo mettiamo tra parentesi perché come sapete quando prendete la patente siete neo patentati per tre anni avete quindi le varie limitazioni tipo i limiti di velocità in autostrada e superstrada tasso alcolemico pari a zero decurtazione dei punti raddoppiata nel caso di infrazione e appunto la limitazione per quanto riguarda la potenza del veicolo che potete guidare e il rapporto potenza peso questi sono tutti i limiti del neopatentato limiti ovviamente a cui dovrò sottostare ma anche quando finirò di essere neo patentati diventerò patentato standard io comunque starò sempre attento a questi regolamenti visto che il codice della strada è molto severo per quanto riguarda l'esame allora io mi sono recato diciamo al luogo di ritrovo verso le tre un quarto di pomeriggio peraltro 24 mattino anche lavorato sono tornato a casa giusto per rilassarmi un attimo stemperare un po la tensione perché ero super 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 agitato alla fine verso le 15 e 15 circa mia mamma io ci siamo recati al luogo di ritrovo ero l'ultimo dell'elenco quindi ho avuto un po di tempo per fare un po il punto della situazione dal punto di vista psicologico e poi ho fatto ovviamente l'esame delle sei persone che erano presenti quel giorno solo una persona non l'ha passato perché ha sbagliato i tempi quando dovevamo entrare in superstrada praticamente c'era un pezzo da fare in superstrada e bisognava proprio entrare in superstrada ha sbagliato i tempi e per poco non faceva la fiancata ad una macchina che stava passando quindi l'istruttore aumenta bloccato subito il l'allievo e sono ritornati al punto di inizio quindi al piazzale quando praticamente l'esame si conclude e ci sei ancora tu alla guida vuol dire che è andato bene se invece c'è l'istruttore vuol dire che è andato male allora io sono contentissimo sono ancora un po su di giri infatti questo weekend meno male che ero a casa da lavoro ne ho approfittato per stemperare un po l'adrenalina perché ne avevo a fiumi in quel momento che ero lì per la serie quando è che mi chiama quando è che toccherà a me alla fine quando l'istruttore mi ha visto è venuto addirittura da me e mi ha detto mi raccomando stai tranquillo se fai le cose che ti ho insegnato all'esame andrà bene l'esaminatore è uno bravo ti do io le indicazioni ti do una mano io tu basta che fai attenzione stai tranquillo e fai come ti ho insegnato durante le guide che ho fatto che non sono state poche peraltro ho avuto ovviamente diversi problemi ho fatto qualche errore l'istruttore aveva fatto anche diverse cazziate ma come giusto che sia perché voi direte che guidare è una cosa semplice no sto cazzo guidare è complicato se non ti ci metti di impegno giustamente qualche errore lo fai però io se facevo gli errori non era per fare un torto al mio istruttore perché ero delle testa dura io e li volevo fare ogni guida che facevo è perché non mi sentivo ancora sufficientemente sicuro quindi alla fine niente il 24 marzo ho fatto l'esame era tutto tutto bene prima qualche domandina teorica mi ha chiesto le spie che le sapevo poi ho acceso la macchina in versione di marcia e siamo partiti ho fatto i parcheggi allora io quei parcheggi non sono mai andato d'accordo ho fatto il parcheggio classico quindi quello sulla destra classico il classico parcheggio e poi ho fatto il parcheggio a pettine in retromarcia il parcheggio a pettine in teoria al terzo tentativo se non ti riesce l'esame finisce lì e invece dopo tre tentativi che io l'ho fatto praticamente quasi uguale per poco non andava addosso ad una macchina me l'ha fatto fare una quarta volta e al quarto tentativo ce l'ho fatta invece il parcheggio classico l'ho beccato al primo colpo poi circolazione normale quando ci stavamo avvicinando al pezzo dove bisognava entrare in super strada ho detto devo stare concentrato perché questa parte non dico sempre ma quasi l'ho sempre sbagliata durante le guide sono entrato ho guardato le precedenze specchietti sono entrato mettendo la freccia e ho accelerato ovviamente perché bisogna accelerare quando entri in super strada visto che hai un limite un pochino più alto e ho messo ovviamente la quinta marcia che è la marcia massima ci sono anche delle macchine che hanno sei marce addirittura però l'audi che ho usato fino adesso per le guide aveva cinque marce poi dovevamo prendere l'uscita per ritornare sulla strada del piazzale diciamo di partenza ho scalato ho fatto attenzione ovviamente all'uscita perché c'era un pezzo di isola sparti traffico un pezzo di corsia dedicata all'uscita del benzinaio c'era un benzinaio come punto di riferimento poi c'era una parte di striscia continua e la parte di striscia discontinua era l'inizio dell'uscita che dovevo prendere io ho fatto attenzione è stato a scalare un pochino e non appena stavo per arrivare nella curva in secondo ovviamente ho scalato quinta quarta poi dalla quarta alla terza dalla terza alla seconda perché mi hanno insegnato che le parti in curva si fanno in seconda anche i dossi ovviamente io ricevo le istruzioni le stampo qua in testa e cerco di non scordarmele più siamo tornati poi piano piano con le varie manovre nel piazzale di partenza ho accostato e l'esaminatore mi fa compagnoni idoneo mi ha dato la patente controlla se tutti i dati sono giusti firma qui perché hai fatto l'esame e sono tornato da mia mamma che era lì che mi aspettava poi il mio istruttore mi è venuto incontro di nuovo per darmi la pacca sulla spalla come per dire ce l'abbiamo fatta finalmente perché vi devo fare una confessione 24 marzo era il mio secondo tentativo alla pratica perché io l'ho provato già a dare la pratica il 4 febbraio ma non è andata bene ero troppo agitato non ero lucido in quel momento infatti mi sono buttato giù per diversi giorni se vi ricordate durante febbraio non ho pubblicato molti post sulla community tab ho pubblicato comunque pochi video ecco perché ero molto depresso per questa cosa dalla patente poi ovviamente ho ritentato il 24 marzo con qualche altra guida il 24 marzo cioè io prima del 24 marzo ho fatto altre guide aggiuntive poi quando mi hanno detto la data del nuovo esame ho detto prepariamoci bene io il 24 ho dato l'esame e sono risultato idoneo ovviamente ho giuito mia mamma tra un po' si metteva a piangere dalla felicità ho fatto ovviamente mi ha fatto ovviamente anche il video ho postato la mia foto il mio selfie con la patente in mano e tutti mi hanno fatti i complimenti per questa questa milestone questa questa impronta importante che ho stampato nella mia vita perché sapete che la patente serve e voi direte forse è meglio se la prendevi prima ho 28 anni ragazzi se l'ho presa adesso l'ho presa adesso quindi non cagate il cazzo perché la persona può prenderla anche a 30 40 anni dipende dalle necessità dalle possibilità io ovviamente ho sbagliato il primo tentativo ma perché non ero ancora pronto secondo me non ero neanche tanto lucido con tutta l'agitazione che avevo ce l'avevo pure al secondo tentativo l'agitazione però alla fine il mio istruttore mi ha fatto un discorso di quelli che non si dimenticano facilmente e quindi alla fine la pratica è andata ovviamente sono andato poi a fare una scappata da mia nonna per dirglielo perché mia nonna ci teneva tanto che io fossi patentato e poi niente sono tornato a casa mi sono rilassato e per festeggiare ovviamente non abbiamo festeggiato venerdì stesso ma ho festeggiato sabato perché sabato sera io e mia mamma ci siamo mangiati il cibo indiano ce lo siamo fatti arrivare con Just Eat e abbiamo celebrato questo momento importante oggi invece è giornata abbastanza tranquilla sto facendo un po' di lavori al pc sto rimettendo un po' a posto iTunes e anche la lista delle canzoni sul telefono mi sa che tra un po' dovrò comprare la memoria più grande perché 32 giga sono pochi per tutta la musica che ho quindi o compro la schedina più grande oppure inizio a usare la memoria interna che il mio telefono ha 128 giga quindi musica sapete quanta ce ne sta domani sono ancora a casa dal lavoro e domani vediamo se riusciamo a fare qualche altra cosa per esempio in questi giorni ho visto tipo 3-4 film su Prime Video vediamo se riusciamo a portare qualche recensione e poi niente vi terrò aggiornati con altri vlog magari il lavoro come va ci sono altre novità in arrivo insomma devo dire che come video ci siamo direi di andare alle conclusioni quindi finalmente sono ne ho patentato questo vuol dire che posso iniziare a guidare ovviamente adesso che sto iniziando appunto a lavorare dove sto adesso inizierò a mettere da parte un po' di soldini per comprarmi appunto la mia macchinina e niente poi si vedrà ovviamente vi terrò aggiornati sul canale come promesso noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate alla campanella delle notifiche per non perdere tutti i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima